Ben tornati, ben tornati a Trapparello In questa domenica insieme a poche settimane dal voto, l'altro giorno ho visto al telegiornale sul Tg1, mi pare, un servizio che mi ha colpito molto perché in qualche modo ci ho letto un po' di karma, cioè io spesso dico provocatoriamente ma non soltanto che molte responsabilità nel difficoltà e nel declino che per certe situazioni e in certi ambiti questo nostro paese sta vivendo Lo abbiano i politici che ovviamente sono responsabili delle scelte ma anche l'informazione che in Italia ha un po' perso quella funzione di cane da guardia che in altri paesi, in Francia, ma pensate per esempio negli Stati Uniti, in tal senso davvero forse ne sono l'emblema ancora Il quarto potere può avere nei confronti degli altri poteri di uno Stato democratico che è quello di vigilanza, di denuncia, di pungolo anche a far meglio per la classe dirigente di un paese Allora, accomunati nelle cause di una serie di problemi che questo nostro paese sta raccontando, i politici e i giornalisti rischiano di essere accomunati anche nel loro epilogo, nella loro estinzione Che cosa c'entra il servizio del Tg1? Mi diceva, questo servizio che potete recuperare dal sito rainews.it, che in India sono iniziate le elezioni E uno dice, vabbè insomma, sono tanti, votano fino al primo giugno, pensate quanto siano complesse da organizzare queste elezioni Pensate poi agli spogli, io mi immagino che maratone mentana faranno i direttori dei telegiornali dello Stato indiano Ma la cosa che mi ha colpito, la vedete anche in questo titolo Che essendo parecchi milioni, gli aventi diritto al voto Ed essendo molto difficile raggiungere attraverso i mass media tutti coloro che in teoria sarebbe opportuno andassero alle urne Si sono inventati un modello che è frutto di questi tempi moderni Perché sfrutta le potenzialità dell'intelligenza artificiale Ora voi immaginatevi dover raggiungere 970 milioni di elettori Ma soprattutto immaginatevi di dover studiare un messaggio che possa essere convincente dal punto di vista elettorale Io non conosco così bene la realtà indiana ma immagino che un continente di proporzioni gigantesche In mani con una popolazione così numerosa e così variegata Abbia delle esigenze che di territorio in territorio possono essere specifiche, possono essere complicate E magari chissà in India non sono abituati alle promesse roboanti tipiche della politica italiana Che sono soprattutto slogan senza molto contenuto e allora loro che cosa fanno? Fanno in modo che i politici mandino messaggi mirati uno per uno a ogni elettore E voi direte come fanno? Semplice, con l'intelligenza artificiale Hanno studiato un modo che permette ai politici di parlare direttamente al target Direttamente all'elettore che vogliono avere con l'effigie, la sembianza e con la voce di quel politico stesso Faccio un esempio Facciamolo con, non so, Giorgia Meloni Hanno trovato il modo per far sì che una finta Giorgia Meloni Con la sua voce, con il suo volto Perché l'intelligenza artificiale abbiamo capito da subito che sa fare queste cose Si rivolge potenzialmente a ogni singolo elettore Tutto questo è per certi versi affascinante Cioè, è ovvio che ha un qualcosa che solletica la nostra fantasia, la nostra immaginazione Ma al rovescio della medaglia, se ci pensate, sta proprio in questa varietà di utilizzi Che l'intelligenza artificiale ormai sta avendo E che hanno tutti potenzialmente un minaccioso traguardo all'orizzonte Ed è quello di poter arrivare un giorno addirittura a fare a meno del politico Perché, voi immaginatevi, se per la campagna elettorale Non c'è più neanche bisogno di fare i comizi Non c'è più neanche bisogno di fare le interviste, di partecipare ai talk show televisivi Vabbè, io vi ho sentito E qualcuno di voi dice Allora i politici che praticamente parlano soltanto non servono più a niente Queste cose non si dicono, sono cattive Però è vero, perché di fatto anche l'arte oratoria di un politico Che non è per tutti garantita nel curriculum Potrebbe diventare superflua E quindi forse un giorno potrebbe anche non essere più necessario Avere un candidato fisico, un politico fisico Ve lo immaginate? Vi suona il telefono, vi arriva un'email Voi cliccate sul link e vi compare il vostro candidato del territorio Che non solo vi invita a votare Non solo è in grado di farvi delle promesse E anche queste molto inquietante Taylor made, cioè sempre più su misura sul vostro problema Della serie Claudio, hai bisogno di un cassonetto più vicino a casa? Votami e lo avrai E' tutto da questo punto di vista agghiacciante Ma addirittura è in grado di sapere se tu sei andato oppure no a votare Per cui viene a richiamarti Viene a chiamarti al momento del voto E ti chiede Claudio perché non sei andato a votare? E voi direte Vabbè una volta questo lo facevano anche i... Non si dicono i capi bastoni... i cacicchi? Com'è quella espressione di cui si parla tanto adesso nella politica locale? Cioè è sempre stato così, no? In tutte le comunità c'è qualcuno che controlla chi va a votare e chi no E se qualcuno deve andare a votare Perché è necessario che lo faccia Vengono a suonarti al campanello Ecco in India lo fa l'intelligenza artificiale E allora la domanda che io faccio ai politici è Attenzione perché questa moda Credo che possa anche in questo episodio In qualche modo spingere ognuno di noi A chiedersi se tutto ciò sia fantastico Meraviglioso Che belli prodigi la tecnologia Ma non possa rappresentare un rovescio della medaglia Potenzialmente pericoloso Non che io sia preoccupato dell'estinzione Della figura del politico Così come non sono preoccupato dell'estinzione Della figura del giornalista Che già in molte redazioni viene in parte sostituito Dall'intelligenza artificiale Ma tutto questo dei dubbi Anche di natura etica ce li deve porre E un motivo in più forse Per fare una saggia riflessione Su quali limiti sia giusto dare A queste nuove frontiere della tecnologia L'Europa voi sapete che è stata la prima al mondo A darsi un regolamento Una direttiva che è stata approvata poche settimane fa Al di là che poi venga recepita dai singoli stati Ancora non è ben chiaro Quali aspetti verranno messi nero su bianco E quali aspetti verranno vigilati Però sicuramente Iniziare a porsi la domanda Fin dove è giusto applicare in modo così massiccio L'intelligenza artificiale Credo che sia lecito Sia un dubbio lecito da porsi E sul quale andrebbe fatta una sana riflessione E pensate quando l'editore di questa nostra piattaforma Diego Bianchi si stupirà Anzi si stuferà Si stupisce ogni giorno a sentire le cose che si dicono Ma quando si stupirà di sentire questi nostri sproloqui quotidiani Deciderà di sostituirmi con l'intelligenza artificiale E chissà che non dirà il mio avatar qualcosa di più sensato Di quanto cerchi con molta fatica Quotidianamente di condividere con voi In questi appuntamenti Ma per fortuna che è domenica Vi auguro un buon proseguimento di giornata E se volete domani riparte la settimana di 10 minuti Arrivederci a tutti Grazie a tutti